Sì, al dialogo con la Turchia, ma l'Unione Europea difenderà sempre i suoi stati membri. Il Consiglio Europeo è chiaro nelle sue conclusioni sul tema delle relazioni fra Bruxelles e Ancara. I capi di stati e di governo dei paesi europei si mostrano ben compatti al fianco di Grecia e Cipro, chiedendo alla Turchia di terminare le dimostrazioni di forza unilaterali nel Mediterraneo orientale. Siamo disponibili a costruire un'agenda positiva con la Turchia, a condizione però che si fermino le violazioni del diritto internazionale, ha spiegato in conferenza stampa Charles Michel, presidente del Consiglio Europeo. Serve un approccio basato principalmente sul dialogo e sulla capacità a scendere a compromessi con Ancara, ha spiegato Pierfrancesco Maiorino, europarlamentare del Partito Democratico. Ma è chiaro che il Consiglio ha un obiettivo che è quello di tentare di contribuire a far ristabilire dei rapporti differenti nell'area del Mediterraneo, in particolare di riuscire a risolvere positivamente, a contribuire a risolvere positivamente le tensioni tra Grecia e Turchia. Dialogo sì, ma bisogna trattare le aggressioni della Turchia come tali, secondo l'eurodeputato Massimiliano Salini di Forza Italia. L'aggressione subita dalla Grecia e da Cipro e quindi dall'Europa intera sullo scenario del Mediterraneo orientale da parte della Turchia è un'aggressione vera, non è una complicazione come a volte l'alto rappresentante Borrella ha voluto definirla. Da un lato l'incertezza sul futuro data dall'emergenza Covid ancora in corso, dall'altra la possibilità di fare grandi investimenti grazie ai fondi europei e di puntare a un rafforzamento dell'Unione per affrontare al meglio le sfide future. Queste le due direttrici principali dell'intervento del governatore di Banca d'Italia, Ignazio Visco, al Festival dell'Economia di Trento. Il presidente della Banca Centrale Italiana ha parlato a lungo del presente e del futuro dell'economia e sul MES ha osservato ha solamente vantaggi, non si va sul mercato e a lunga scadenza a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato. Dopo la forte contrazione registrata tra PIL e giugno, il PIL dell'Eurozona registrerà una ripresa nel terzo trimestre del 2020. La produzione industriale ha continuato a crescere nel mese di luglio, anche se a ritmi inferiori rispetto al bimestre precedente, e dovrebbe segnare un deciso rimbalzo nel terzo trimestre per poi continuare a crescere a tassi più moderati nei due successivi. I dati sono stati resi noti dall'Istat. La Commissione europea ha varato un nuovo piano d'azione per l'Unione doganale che definisce una serie di misure per rendere le dogane dell'Unione europea più intelligenti, innovative ed efficienti nei prossimi quattro anni. Le misure rafforzeranno l'Unione doganale quale fondamento del mercato unico e ne confermeranno il ruolo nel proteggere gli interessi dell'UE e della sicurezza. Negli ultimi anni è emerso che le autorità doganali degli Stati membri sono in difficoltà a svolgere le funzioni a loro assegnate, difficoltà destinate a crescere di fronte a nuove sfide, come l'attuale emergenza sanitaria, le conseguenze dell'uscita del Regno Unito dal mercato unico e l'aumento della digitalizzazione e del commercio elettronico. Grazie a tutti.